ultime indicazioni per i tappabuchi che cercano la prima vittoria a torneo di Pinzago ma ora c'è mezzo secondo Dotto ha segnato Garibodi buono il canestro supplementare magia di Dotto Garibodi al volo, allo scadere salva la partita per i tappabuchi ragazze di Pinzago classio 91 miracolo sulla sirena Pinzago qui